Ok ragazzi, questo è un video con partita già iniziata, perché mi ero dimenticato di attivare la registrazione durante l'inizio della partita, è stato un po' un fallimento totale. Sto giocando contro una squadra che c'ha sia Benji che Aoi, Aoi ha già dimostrato il suo valore, facendo qualcosa che mi è messo un po' in intimità, però ce ne siamo usciti in maniera pulita, pagata e liscia, intanto stiamo cercando di scolpare Benji, Benjolino, Benjolino, Benjolino il più possibile, facciamo un altro tiro in l'aria e proviamo a portare a casa questo primo gol che sta risultando molto più difficile di quello che si può supporre. Lui è riuscito a farlo un solo tiro con Aoi, yes! Nooo, vabbè! Quando hai tutti i personaggi top dell'universo, ma prendi gol, è Rage qui. Ragazzi, miei cari, purtroppo delle volte avere i risultati, cioè avere tutti i personaggi non porta per forza il risultato, non è detto per forza che avere tutti i personaggi ti porti alla vittoria, non è neanche detto che ci sia stato io bravissimo, magari ho avuto qualche matta di culo, in quanto la registrazione non è iniziata da subito, non potete vedere il tutto, anche se non ho sperato per nulla. Magari si è semplicemente creata la connessione, però, va bene così. Ci vediamo dopo con un video un po' più normale, in quanto questo è stato un video veramente troll, super troll!